Wella ragazzi, ciao a tutti la Nick, bentornati qua su Farming Simulator 19 nella mappa off Bergamana Ragazzuoli, oggi siamo qua in compagnia di un incredibile miticaccio Ma va, buonasera ragazzuoli belli, mi raccomando, buongiorno, buongiorno, buongiorno Qualsiasi cosa Secondo me è buon pomeriggio, dai Vabbè, e non solo, raga, mi trovo anche in live perché vedete che c'è la scritta a recca Anche perché vedete che c'è la web, perché di solito quando non registro il live non la metto perché si muore di caldo Quindi siccome non mi va di stare tutto il giorno col climatizzatore acceso Comunque sia, se volete passare a trovarmi in live, in descrizione c'è il mio canale Twitch E in descrizione c'è anche il canale di miticaccio C'è anche un link che vi permette di comprare questo e tanti altri giochi scontati E c'è anche un giveaway, insomma c'è di tutto in descrizione Grazie, 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 gentilissimi Prego, prego, comincia a lavorare Vai, forza, vai, vai Ma no patate, queste qua dobbiamo raccogliere Sì, compà, ci ho messo l'operaio e non le vuole lavorare All'operaio non gli piace la patata Ci ho messo l'operaio e faceva giro giro tondo di continuo Boh, eh vabbè Allora, intanto che miticaccio si diverte con la patata E non capite male Intanto che miticaccio si la spassa con la patata Noi dobbiamo, ah perché uno dice ma oggi Nick che si fa? Oggi praticamente, visto che ormai non sappiamo più o meno che fare Oggi pure che ci indebitiamo fino al collo Pgliamo finalmente sto coso dei tori Così almeno lo vediamo Almeno vediamo un po' cos'è sta cosa dei tori Per fare ciò mi devo indebitare tantissimo Poi chiaramente quando verrà la banca a lamentarsi Gli do l'indirizzo di miticaccio Poi la banca viene a casa mia E gli dico siediti e ci facciamo due orecchiette le cime di rap Va bene, basta che li tieni occupati Cumpà, vedi tu Vedi tu, vedi tu Vai, vai, via di sta rapa Cumpà, divertiti Allora Io arrivo Adesso c'ho la patata, no la rapa Giusto Arrivo preciso preciso ai soldi necessari Per comprare questo terreno del toro Che però non mi ricordo più dov'è Giù Vicino alla calceviva quasi La stazione di ricarica La che? Stoccaggio dei liquami 744 Ok compra Rimaniamo praticamente 3.000 euro A posto Non abbiamo i soldi per comprare i tori Quindi non lo so Allora Allora Scarichiamo qua sta roba Che così almeno recuperiamo un po' di soldi Beh recuperiamo Dobbiamo comprare i tori Oh Vedi qua Vedi qua Vedi si è incastrato il cosino Nel cosino A te ti si incastra il cosino È perché ce l'ho troppo lungo È largo e grosso Sì sì Perché se si incastra è largo e grosso È certo È certo È certo Ah con ste patate finalmente la finiamo Ai ai Solo due tori dici o più di due 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 bastano Io a me ne ho preso veramente uno Però Oh pensavo quasi che c'era scritto Giovanna Toro Dico si chiama Giovanna Ma aspetta Giovane Toro o Toro da riproduzione Non sto a capire Io Toro da riproduzione ho preso Due tori da riproduzione? Eh sì E quelli che poi devono no Li dobbiamo portare qua Con la mucca fanno No perché tra quello giovane E quello da riproduzione Cioè non ho capito Cioè qual è quello che mi fa la creme della creme da vendere? Beh penso quello da riproduzione Penso A posto siamo Io ho comprato quello da riproduzione Perché al momento devo far fare la giostra La mucca Tu ho visto che c'è stella Ne puoi via tutte e due O non puoi? Eh vediamo Più io ho due da riproduzione E due Normali E quanti soldi hai? No Il rimorchio contiene già un diverso tipo di animale Ok Allora a posto Vabbè ho preso due da Da cosino Ozione E poi magari ne prendi uno solo giovane Vabbè Tanto costa 3000 Quello giovane Ne posso via due Sì ho comprato il coso dei tori Così ci togliamo sto dubbio Qua sto discorso Vabbè Ovviamente un po' Non vendiamo le patate che avanzano qua Allora mettiamo proprio qui la scritta toro Ehm Tori Torero 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 Ali Ok Ora Compa Si scaricano qua mi sa no? Com'è entra a sinistra Ok allora l'ho trovato Quel macchinario di fronte è rosso Quello di colorazione mista in grande Ah Scarichiamo Conferma Allora rimandiamolo al coso dei negozi o mercante Capito tutto no? Rimandiamolo al mercante che devo comprare i giovani tori Oh signor toro Com'è? Mo signor toro Le mando Mi ti caccio Vestito di rosso Va bene? Proprio così ti devi comportare appena lo vedi Bravo Così Bello Bello così Vai Allora Vediamo un po' Dunque se ho capito bene Gli dobbiamo da da mangiare Ma Chissà perché st'animale Sì razione mista Razione mista lo porti al 100% Del suo benessere Ma Do stanno scritti qua i tori Stalla tori Ok Paglia a razione mista Va bene Ma pure questi non bevono Va bene Siete non ne hanno Ok Ma Qua vabbè Se è bloccato il cosino Tanto per cambiare Allora Razione mista Understand Ah Qua stai Quanto ne abbiamo? Boh 25.000 La voglia Ok Ne scarico Boh Ne porto un 5.000 Dovrebbe bastare Due Quanti sono? Quattro? Eh Se tu dici 4.000 Sarà Vabbè Vediamo Io 5.600 Gli porto Poi Si vedrà Vai Ok Va dal toro Questa razione mista va dal toro E qua è il camion Compa Lo sto prendendo L'ho trovato io Lo sto portando Dove sei? Dove sei? Dove sei? Anche perché quel macchinario lo devo restituire Vieni dove stanno le balle di fieno Permesso Dalla una botta la prossima volta Mi raccomando Compa Già A botta Gliel'ho data pure a quel povero trattore Quindi Ok Questa qua si può Si può restituire Garage Noleggiati Auf Wiedersehen O Arigato In base a quello che ti piace di più Noodles Allora Io ho portato Il camioncino Il furgoncino Alla del compost A vendere alla raffineria Il compost Ok Ok Vabbè Io vedo che Devo anche Tu vuoi provare a fare adesso Il succo di frutta dei tori? Fin prima fa metà da mangiare Tu portagli un po' di paia ai tori E mi devo portare il merlo là Fai chilo che ti piace Da vedi tu A dove sta il merlo? Ma il merlo tu non ce l'hai Il merlo no ma ce n'è uno simile Si 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 Dimmi a fondo di me Che giovane toro Ma se lo piglio di colore diverso Perché è brutto che sono tutti uguali Conferma Toro Vai Ok Stavo andando a scaricare questa roba qua Salve Buongiorno Bombudino Bombudino Io lo scarico qua Tanto sto Che? No ma questo che cavolo è? Ma non mi dire che questo è veramente un deposito Sarà un deposito? Non può essere Non conosco Non penso che un deposito Però Che cacchio è sto coso qua? Sarà che è fatto così e basta Io comunque qua voglio andare a posare le patate Se me le fa scaricare E' perfetto Oltretutto pare studiato apposta per separare le cose E' proprio quasi studiato Ci dovrebbe stare Vediamo E dietro ci sono i nastri? No Vabbè il nastro ce lo porti tu Vabbè quello si Ma funge E' porca miseria Già mi si è incastrato a me Aspetta Ok va bene In caso faccio ripristina Va qua proprio Andiamo Ok Vediamo Ebbè boh funge Boh E' ok Non mi posso lamentare Questo continua ad andare Ok Così Continuiamo a vendere compost Perché i soldi proprio Scarseggiano Oh Beh almeno non dico che Siamo mega indebitati Però almeno stiamo un po' a recuperare Due lire Vabbè ricordati Compa che poi abbiamo i pannelli solari Grazie al cielo Eh I soldi dei pannelli solari aiuteranno tanto Ma guarda Guarda più che grazie al cielo Grazie al sole Perché se il cielo è nuvoloso I pannelli in teoria non fanno niente Ti è piaciuto la battuta eh No La stavo pensando Hai ragione Allora restituiamo Allora restituiamo Debiton Che è mo' Un milione e tre Debiti Mettere la mucca nella starla del toro Boh Una cosa alla volta Non lo so Ma perché funziona Tu l'hai fatto No ancora no Io ancora non li ho fatti Accoppiato i tori Vabbè ma tanto io che ci risolvo C'ho ancora la crema della crema Lì che c'è il dottore Là che la mette Diciamo che bene o male Non è che manca Sono quasi tutte già Gravide Ah non si può Potrebbe essere Sì I giovani tori Mi pascalano Mi piscolano Pascalano Insomma La fanno qua Che vogliono i giovani tori invece E che ne sa c'è Ah tanto il cibo Lo si dà qua dentro Ok Fai le reazioni miste Pure loro A posto Ok E allora andiamo Mi dice Dicono che per la crema della crema E bisogna portarli da un'altra parte C'è la giostra lì di fronte Eh dov'è C'è la loro giostra C'è la loro giostra Sì sì lì di fronte Quel capannone bianco là È quello Dove c'è la macchina Per creare la reazione mista Quella grande E ce li devo portare Eh certo Devi portarle là Che loro Devono Devono fare Aspetta Visto che tu Sta giostra La conosci Ok Hai visto la giostra? Eh Mica tanto Oh no Quando è una casa è? Signo toro Com'è? Andiamo toro Fagli vedere a me di caccio Come te la cavi Vai dritto Vai dritto dritto E mettiti a retromarcia E scarica il toro qua dentro Scarica Eh vai Dai Dai Eeeh Piano Mi scusi Senti come Ma il barile vuoto L'hai preso? No Com'è Te metti tu Con un sacchetto Vieni qua Devi prendere Il barile vuoto Mannaggia Che li devi mettere Qua dentro Qua dentro Ti devi far stagionare Qua dentro Vedi? Ma che stava a fare? Aspetta Aspetta Qua dentro Com'è Vedi? Ma Non lo so Ma è convinto E poco Tutto ciò Qua poi si mette Qua dentro Il succo di frutta E si fa stagionare Ah giustamente Sì ma come faccio A sapere Che Che lui C'entra la luce Che devi vedere meglio Signor toro A che punto siamo? Eh Devi 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 venire Con il coso Ah Ci vuole Il barilotto Lei Sì Tu lo devi Piazzare avanti Qua Ah che lui Che lui poi Dentro Ti fa vedere Le prestazioni Eh lo deve Lo deve riempire Anche quel barilotto È che ci dove Lo sta mettendo Sì ma Ho capito Ma in che sezione Si trova il barile Sempre Sempre lì Compa Il terzo Forniture per animali Varie Varie Conterritore di raffreddamento Sì Vuoto Sì vuoto Che poi uno ce l'abbiamo Eh Però Vabbè Vabbè Ho capito Dai Ok Io arrivato Sono Vediamo un po' Ho portato Il cosino Io toro Guarda che cosa Di Di latta Che ti ho Pottato Allora Si acciola Forse la R Vicino a lui Mi metto qua Signor toro La facci dentro No eh Scusa Compa Come si raccoglie Sta roba Aspetta Signor toro Aspetta eh Eh Non lo so Stavo a dire Ho mollato Sto coso per terra Sono arrivati Dei soldi Oh aspetta Inizia Aspetta Inizia Inizia Il riempimento Devi stare Eh Non c'è niente Aspetta Mettiamo il gioco Veloce Magari Quello Cambierà Qualcosa No No Gioco Veloce Facciamo passare Un po' Di ore Signor toro Ma com'è E secco Niente Mi sa che Compà Non c'è niente Non c'è niente Non c'è niente Non c'è niente Non è affatto Prodotto Riproduzione Eh no Non lo so Sta storia Come funziona Sinceramente Toro Giovane Toro Toro da riproduzione mio toro avanti dai su dai spingi più forte che ti devo dire hai portato il giovane toro da riproduzione o il giovane toro no no ci ho portato solo quello da riproduzione senza giovane senti famo passare sta nottata pure che debiti me se magnano o eccolo eccolo 5 litri al giorno mi sa e ci metto un giorno porca miseria ci mettono di quelli 5 litri ha fatto in un giorno mamma sì ma che vabbè certo è è ovvio mica ma è tornato stavo di mettono ne fai di più compasi sì ma io non ho capito motivo questo qui lo posso mettere di nuovo dentro a farsi la giostra oppure è stanco non è che so ste cose non lo so penso che pur sempre un gioco penso che te lo fa altro poteva mangiare ti dici per fare le forze io provo vediamo che succede e non lo scarica di nuovo quindi mi smiava beh sa che un toro baste avanza e alla messa di un toro messo rifatti ma sai che per farla crema della crema quel quel cosino che tu c'hai quanti di quanti litri è ma che cosa quel cosino che tu c'hai e questo ne contiene credo fino a mille che ne sacci senti abbiamo qualcosa problemi vari no resti a noi animali che poi rimangono senza acqua e cose varie ma sei giorni ma i cavalli non vanno a più di 15 mila vero quelle della scuderia no quelli esterni mi sa che arrivano a 35 mila mi sa e fammi passata altra giornata così vediamo no no e allora no no tutti 15 mila gli hanno gli hanno fa vede se è così li vado allora li vado subito a vendere e ne compriamo altri sì vabbè ormai allora ok il toro se n'è andato ma non mi dire che un barile ne contiene massimo 5 litri ma quanti ne devo comprare devo comprare una tonnellata di barili in pratica compa perché il barile più di 5 litri non contiene va al 100 per cento e se lo scarichiamo in un tank di quelli universali il barile non penso che si possa fa perché quello è un barile particolare a freddo tutto cos'è è tipo un termos vabbè sono 223 mila euro conferma a meno questi cavolo cavalli compriamo i cavalli beh almeno di nuovo sì 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 fai il pieno un pa tanto almeno abbiamo almeno abbiamo 200 mila euro da restituire che è meglio di niente ok oh vabbè dai almeno sappiamo come funziona praticamente devo comprare una tonnellata vabbè che tanto sto coso sono sicuro che avrà una buona capacità quindi ah che poi tu hai detto che li devo mettere sicuro che ma sicuro che lo devo mettere a stagionare perché qua non dice niente no quello là dentro lo metti lo conservi no ma che non piglia niente aspetta come no ah ok magari dovevo aprire prima sì 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 ok perfetto 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 ho capito devo comprarne tanti poi di sti cosi vabbè vabbè senti cumpà concludiamo l'arrecata che ahimè il tempo è volato via prossimo episodio facciamo divertire il toro con la mucca portiamo proprio il toro in farm va bene va bene allora ragazzuoli per chi guarda su youtube noi concludiamo qua oggi quindi abbiamo visto il toro come come fa e speriamo che il gameplay vi sia piaciuto vi ricordo quindi che in descrizione trovate il canale di miticaccio trovate il mio canale twitch trovato il link che vi invete di comprare questo gioco e tanti altri scontati insomma date un'occhiata giù noi ragazzuoli vi salutiamo mettiamo di nuovo il toro dentro che ormai questo deve fare nella vita e niente vi salutiamo quindi ragazzi ciao alla prossima ciao ragazzuoli belli miticaccio vi vuole bene con nick ciao 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 ciao